Per me è un incubo! Ma perché la zucca deve far paura? La zucca è buonissima, mette allegria, calore, deliziosa! Volete un esempio? Cominciamo tostando bene il riso in una casseruola. Intanto tagliamo pezzettini gli ingredienti. Ok, ora mettiamo tutti gli ingredienti insieme al riso. Aggiungiamo un filo d'olio e li facciamo sfrigolare insieme. Quando è tutto ben caldo possiamo aggiungere il brodo e dar così inizio alla cottura che durerà circa 13 minuti. Ecco, quando il riso sarà cotto semplicemente aggiungiamo questo formaggio delizioso e mescoliamo bene. Pronti per versare in zucca! Vedete? La zucca sta bene col sorriso! E con il riso!